Laddove al lavoro si toglie lo statuto di diritto, noi ritorniamo alla barbarie, grazie a questi lavoratori che onorano questo palco scena. Sul palco del Teatro Verdi è andata in scena la vita reale, dura e incerta di questi tempi, ospitata dall'attore Monio Vadia, che al termine del suo spettacolo ha voluto dare visibilità e sostegno alla lotta degli operai di Eoni, che hanno ripreso gli scioperi contro il progetto di ridurre della metà il personale della centrale di Fiume Santo. sarebbero danni non solo per l'economia ma per tutto il territorio e l'ambiente. Con inimmaginabili scenari di governabilità sia del funzionamento elettrico come servizio alla comunità che della sorveglianza sulla sicurezza dell'impianto e della solubilità del territorio. Nel pomeriggio la protesta si sposterà in Piazza d'Italia, dove si esvolgerà un'assemblea dei lavoratori e sindacati in contemporanea con i consigli comunali aperti dei centri del territorio e dell'amministrazione provinciale.